www.mesmerism.info 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 adesso c'è l'illuminazione che è spettacolare questa montagna guarda che bella che è bellissima più bella più rossa quando torniamo indietro basta tra mezz'ora questo è un mercato per esempio è il mercato delle bestie c'è un po' di mercato un po' di stia nella terra legna attoni c'è un po' di stia Se vi puoi vedere fate la fotografia di questa montagna perché tra 800 km non vediamo più Tutte così, ti sento una cosa particolare, c'è una massa di pietra Si vede fuori da qui Ma saranno venuti o dei free climbing a fare rocce qui o no? Non ne hai visto mai nessuno? Non credo che vieni a fare rocce, troppa liscia Ah, no no, ma scherzi, non sulle pareti tipo lì, ma sai, quelli che ho di espansione Con il perforatore eccetera, ma soprattutto Ah, a miei perforatori? Eh sì, o studiando qualche crepa che va su, lungo le crepe E' anche pericoloso che queste crepe sono strana Ma no, ma guarda va su eh E di sotto vanno nel Logan, vanno nel sud del Cialdi, mi pare E qui è un po' caldino Eh, forse è quello eh, scoraggia E magari se nella stagione è meno calda, non lo so Comunque, è che sono scomodi da raggiungi, sono troppo lontane O che sono spettacolari, sono Sì, sì, è un po' caldino Sì, sì, è un po' caldino Lo so, sono quelle sceche È un investimento di un asfalt Per la quarta macchina Ma sai, faccio un tiro Un sacco È un sacco Un sacco Un buchi E scrivono E che andalo E che andalo E che ne guidao Ah, non ti guidao Poi, ma acto adesso si è molto importante la montagna sacra andiamo a vedere la sorgente sacra e che cosa che gli assomiglia 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 sono sulla verticale del posto sacro grazie 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 domenício grazie grazie Dove i camionisti si fiamano a fare colazione, ci diamo la signora che prepara la colazione. Grazie a tutti. La signora sta preparando il tè. 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 L'altro è il tè. La signora sta preparando il tè. La signora sta preparando il tè. Grazie. 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 Sì. Sei tutta una assunzione. Non sai quanti anni che volevo vedere l'incrocio dei neri? Oh, qui si vede l'uovo. Guarda che bello. E' un bel uomo. 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 Stiamo andando in visita al parco del Nilo dove i due nidi si incrociano. Per la fuoco delleラ Per la fuori delle nuove Canci. Del bel uomo. Cassato. Ma che bella sto il programma via Grazia, bellissima. Che bella questa, però in viola. Riciniamo al punto panoramico e qui vediamo la divisione dei due nidi. E qui è il nillo bianco e qui è il nillo bianco e qui è il nillo giro. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Oh, siamo al mercato dei manchi. Eh? 12 manchi, 7 dollari? 7, sì. Eh? Ok. Milano, Italia dopo fotografia, eh? Ecco. Noi. Vi una macronazione qui, ma è in mancia, ma non nemmeno sceglie. Il macrono che si stavano, è a nell'assistitore. Questa è un bel giro. Quindi, in mancia, è un bel giro che si può arrivare. Il primo, è un bel giro. Il primo, è un bel giro, è un bel giro. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie 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 Grazie